L'ora solare, l'ora solare vi chiede oggi, bentrovati innanzitutto, vi chiede particolare attenzione e uno sguardo rivolto indietro ad una data, il 31 ottobre del 2002, sono le 11 e mezza, le 11 e 32, è una scossa, una scossa di magnitudo 5.8, in veste il Molise e parte della Puglia. Il paese più colpito è San Giuliano di Puglia e soltanto questo nome vi ricorda già di cosa stiamo parlando. 1200 abitanti, un solo crollo, la scuola, la scuola, Francesco Iovine. Muoiono 27 bambini, viene cancellata un'intera generazione, 27 bambini e la loro maestra. Noi ritorniamo con le immagini del nostro Matteo Forino, curate dal nostro Matteo Forino e poi vi portiamo un raggio di luce, portiamo un raggio di luce nelle vostre case. Perché gli angeli di San Giuliano di Puglia non li abbiamo dimenticati e non li dimenticheremo mai. Ma c'è la dottoressa Veronica D'Ascenso, neolaureata, che aveva sette anni ed era in quella scuola quel giorno ed è una delle bambine sopravvissute. Prima di tutto grazie, con un bacio. Grazie di essere qui, grazie di ripetere ancora una volta questa storia, di condividerla con noi. Quel giorno, posso chiederglielo ancora una volta? Sì. Allora, la giornata è iniziata normale come tutte le altre. Quel giorno noi dovevamo festeggiare la festa di Halloween. La prima ora abbiamo avuto la Mestra Carmela, che è l'insegnante che poi è deceduta. Successivamente mancava la seconda insegnante e quindi nella mia classe siamo stati smistati nelle altre classi. La mia classe praticamente è stata divisa nelle successive classi e anche questo comportava, diciamo, la fortuna di salvarsi oppure no, perché ovviamente in base alla posizione, in base alla classe, questo ha determinato diciamo, quello che è successo dopo. Io mi trovavo in prima elementare, la classe dove praticamente sono morti tutti i bambini, infatti a San Giuliano manca proprio l'annata del 96 e la mia fortuna è stata proprio quella che mi hanno posizionato alla fine dell'aula, in fondo, su un tavolo nero che di solito non si trova all'interno di una scuola. Non era un banco, era un tavolo rigido, più alto rispetto agli altri banchetti, infatti io ricordo che facevo fatica anche ad appoggiarmi perché era talmente alto, io ero piccolina, avevo sette anni e a un certo punto alle 11.32 sentiamo una fortissima scossa. È stato tutto così veloce, tutto così immediato da non darmi nemmeno il tempo di capire quello che stava succedendo. Mi giro alla mia sinistra e vedo le finestre che si rompono una dopo l'altra, mi giro di fronte, il mio unico punto di riferimento in quel momento era la mia insegnante e la vedo con uno sguardo assolutamente spaventato e si porge le mani vicino al viso, come ha fatto proprio un... aveva proprio uno sguardo spaventato e non ha fatto in tempo di dirci mettetevi sotto il banco, io mi giro alle mie spalle e vedo parte della parete che mi viene addosso, dopodiché perdo i sensi e mi risveglio dopo diverse... non glielo so dire quanto tempo, mi risveglio sotto il banco, questo tavolo che praticamente in quel momento mi stava salvando, io non ho fatto in tempo di infilarmi sotto il tavolo ma mi sono risvegliata con la testa ricoperta da questo tavolo e tutto il resto del mio corpo era ricoperto di macerie, avevo praticamente avevo subito un trauma cranico, avevo tantissimi feriti alla bocca, quindi sono rimasta sotto le macerie col corpo bloccato per lunghissime otto ore, facevo difficoltà a respirare proprio perché avevo la polvere, i detreti in bocca e sentivo proprio il sangue che mi scendeva in gola e in più vi erano perdite di gas, sentivo la stanchezza e capivo che quello che mi stava succedendo era qualcosa di assolutamente brutto, però non avevo capito la gravità, non avevo capito che forse lì potevo morire, avevo la speranza che qualcuno prima o poi veniva a salvarmi e quindi insieme alla mia amichetta Rachele la mia fortuna è stata proprio quella di ritrovarmi accanto, era tutto buio quindi io non vedevo nulla, però sentivo la sua voce che mi confortava e quindi sentivo la voce di Rachele, la mia amica e durante quelle ore abbiamo continuato a chiacchierare, abbiamo chiesto insieme aiuto e lei mi dava la forza, mi diceva Veronica dai che prima o poi verranno a prenderci, non ti preoccupare, qualcuno verrà, non possiamo rimanere qui e in quei momenti io sentivo proprio la necessità di fare una preghiera e così in quel momento io e Rachele abbiamo cominciato a fare due preghiere, il Padre Nostro e l'Ave Maria e accanto a me avevo… io ero una semplice bambina, non capivo la gravità, non capivo quello che stava succedendo, vedevo tutto buio, capivo che era una situazione assolutamente strana che non mi era mai successa e però avevo la speranza che da lì uscivo prima o poi accanto… questo forse Veronica mi perdoni la interrompo solo un attimo, questa forse è stata davvero la servizio, cioè essere una bambina, nel senso che avete compreso che il mondo vi fosse crollato addosso, il mondo, il vostro mondo, la vostra scuola… io non avevo capito, non avevo capito nemmeno che ero finita sotto la scuola e che la scuola mi era crollata, per me era una cosa impossibile, c'è la scuola che per me rappresentava il posto più sicuro al mondo, era impossibile che era crollata, ho visto soltanto… Ha ragione, ho visto soltanto tanta polvere, non nemmeno vedevo, sentivo la polvere, l'odore del gas e il buio, accanto a me avevo un'altra mia amica perché nella prima elementare eravamo state spostate in tre e io sentivo praticamente l'unica cosa che riuscivo a fare era muovere la mia mano sinistra e accanto a me c'era Martina, un'altra mia amica che purtroppo non è riuscita a sopravvivere, io in quei momenti non avevo capito, ero solo una bambina quindi non avevo capito nemmeno la gravità, avevo la sua manina, mi ricordo che lei aveva queste manine impaffute, morbidissime e io con la mia mano mi allungavo e cercavo di toccarle il dito, la chiamavo ma non mi rispondeva, allora l'unica cosa che potevo fare perché avevo tutto il corpo bloccato era allungare la mia mano e stringerle questo dito, ho cercato di fare così, di cercare e dico ma forse così lei mi risponde e sentivo questo dito che poco a poco diventava sempre più freddo e ho pensato forse Martina sta dormendo, non ho capito quello che stava succedendo. Veronica si salva e noi tutto questo ve lo raccontiamo tra poco con una particolare attenzione che dobbiamo porre alla frase che lei ha detto, non era possibile che la scuola potesse catermi addosso perché oggi la battaglia di questa signora maestra perché è diventata una maestra Veronica è anche questa, scuole sicure così come devono essere. Ci fermiamo solo per un istante e torniamo con la nostra dottoressa laureata alla Luisa. Tenera. Veronica D'Ascenso aveva sette anni la mattina del terremoto di San Giuliano di Puglia, oggi è diventata maestra, si è laureata, ci sta facendo il grandissimo regalo di raccontarci quel suo giorno e poi tutto quello che è seguito. Insomma ad un certo punto sono arrivati i Vigili del Fuoco, vi hanno trovate. Dopo otto lunghissime ore di continui, noi abbiamo continuato in modo costante a chiedere aiuto, finalmente da quel buio ho rivisto la luce e per me quello spiraglio di luce significava a tornare alla vita, a riprendere, a vivere perché ovviamente dopo tutte quelle ore al buio con quell'odore del gas veramente non riuscivo più a respirare. Vedere la luce e sentire la voce di un adulto in quel momento mi ha rasserenato tanto, erano arrivati i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Veronica, noi le abbiamo istante per istante quelle scene negli occhi, sapesse quanto ha rasserenato noi. Quando le abbiamo sentiti proprio, quando è arrivata la notizia che c'era ancora vita sotto quelle macerie. Ma è vero che volevate, questa cosa la possono fare solo i bambini, no? Vi siete litigate? Sì, 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 sì. Davo otto lunghissime ore, non solo eravamo proprio stanchissime, ma abbiamo cominciato a litigare per chi doveva uscire prima, proprio in maniera ingenua. Io e ragazzo. I bambini sono questo, i bambini sono questo. Infatti i seccorridori si sono messi a ridere, dicono oh meno male, allora se hanno la forza di litigare vuol dire che stanno bene. Che sono ancora in forze. Allora sono seguiti, cure immediate, non c'erano i mezzi di trasporto, era il caos più totale intorno. Certo, è una situazione di forte emergenza. Le hanno fatto un'operazione d'urgenza, quantomeno per fermare il sangue che usciva dalla bocca. Sì, senza anestesia. Ha sofferto tanto, piccolina. E guardate, Veronica è la cugina del piccolo Luigi, a cui lei ha dedicato la sua tesi di laurea. Luigi, il bambino, figlio di quella mamma, nunziatina, che ebbe il coraggio di prendere la parola il giorno dei funerari davanti a Presidente Ciampi, davanti all'Italia tutta chiedendo sicurezza, scuole sicure. Lei l'ha saputo molto tempo dopo che questo cuginetto che lei adorava non ce l'avesse fatta. Sì, subito dopo, quando mi hanno portato in ospedale, ho passato un momento molto buio della mia vita, sia a livello fisico ma anche per tutto il resto. Sono stata proprio seguita, mi sono state vicino tantissime persone. In quel momento il mio stato fisico non era ancora pronto per sopportare un lutto del genere. Io e Luigi avevamo la stessa età, per me era veramente come un fratello e quindi quando ero in ospedale mia mamma continuava a dirmi che Luigi stava bene ed era in un altro ospedale. E io l'unica cosa che riuscivo a fare è perché avevo tutto il corpo bloccato per i vari interventi che avevo subito era quello di aprire con la mia mano sinistra il cassetto del mio comodino, avevo questi tre ovetti di cioccolato e ogni giorno prendevo un ovetto di cioccolato e lo mandavo tramite mia mamma a Luigi dicendo guarda mamma questo è per Luigi così lui sta meglio. Mi dicevano che lui era in un altro ospedale. Non si poteva dire tutto insieme Veronica, non si poteva dire tutto insieme. Allora saltiamo avanti e arriviamo fino ad oggi, uno la vede così per strada e mai immaginerebbe che sia quella bambina che abbiamo visto tirare fuori dalle macerie. La dottoressa ha in mano la sua tesi di laurea che noi mostriamo, didattica e pedagogia a servizio dei bambini con disturbo post-traumatico da stress, l'esperienza di San Giuliano. Signori se non lo scriveva lui, lei, chi avrebbe potuto, chi? E c'è poi una dedica all'interno, c'è una dedica che mostriamo prima di mostrarvi ancora qualcos'altro perché questi sono i raggi di sole. A mio cugino Luigi vivo sarà il ricordo, il suo ricordo nei miei passi. Sono ragazzi molisani questi. Il Molise dice, fa e realizza, questo me lo permetta. Allora senta, abbiamo la mamma collegata nella maniera in cui ci colleghiamo quando vogliamo che un messaggio arrivi alla diretta interessata. Guardiamo un po'. Quanto è bella, ma quanto è bella. Ciao Veronica, siamo orgogliosi di te. Il giorno della tua laurea è coinciso con la festa della Madonna del Rosario. Questo ha avuto un significato particolare per me. Ti auguro di essere sempre protetta dal suo amorevole sguardo. Ti auguro una vita serena, ricca di successi e di fortuna. Ti auguro di essere circondata da persone che sappiano amarti come noi ti amiamo. Ti auguro di essere una buona insegnante. Buona vita. continuo questa Madonna del Rosario. Ecco quella preghiera detta sotto le macerie e effettivamente la laurea è arrivata proprio il giorno preciso. Esatto. Ma c'è anche Zia Nunziatina. Lei l'ho chiamata proprio, ho detto Nunziatina mi fa sto regalo, per favore. Guardatela. Veronica Zia ti fa gli auguri per questo tuo primo traguardo. Sono sicura che sarai una bravissima maestra con quella sensibilità che ti caratterizza. Sono contenta e mi hai fatto emozionare per la dedica che hai voluto fare a Luigi. Ti auguro il meglio che la vita può offrirti. Un bacio Zia. Anche noi mandiamo un bacio a questa Zia. Senta, dottoressa, dottoressa d'Ascenso, allora lei fa la maestra, lei si vuole occupare di sicurezza. Questo sarà il suo secondo lavoro accanto a quello della maestra. Lo faccia dando voce a tutti quei bambini. Non glielo devo dire. Lei so che già lo farà, però lo farà. Quando arriva la ricorrenza del 31 ottobre è sempre difficile, però ogni anno è un anno avanti. No? È vero. È così? Sì. Io di solito evito di tornare a San Giuliano il giorno del 31 ottobre, proprio perché preferisco impegnarmi ogni giorno nel ricordo costante di questo brutto avvenimento, però io l'ho trasformato in qualcosa di positivo. Cioè questa tragedia, questo trauma che ho subito da bambina mi dà la forza ogni giorno di svegliarmi con il sorriso, di essere quindi positiva e empatica con le persone che ho di fronte. E soprattutto credo che una tragedia del genere non bisogna assolutamente dimenticarla. Bisogna parlarne proprio per evitare tragedie ed errori come quelli avvenuti a San Giuliano di Puglia. Ci tengo soprattutto a continuare a mantenere il ricordo dei miei compagni, di mio cugino, altrimenti sarebbe come morire in vano. Invece io voglio continuare a portare avanti i loro nomi e i loro ricordi, proprio perché loro sono gli angeli di San Giuliano, tutti li ricordano. Tutti ricordano queste tragedie. Bisogna adesso invece trasformare questa tragedia in qualcosa di positivo. Pensare che una cosa del genere non debba mai più succedere. Io non ho nient'altro da dire. Veronica D'Ascenso, ci fermiamo solo per un attimo. Grazie. Grazie.